Il Barcellona ha negato per bocca del suo patron Sandro Rossell a qualsiasi trattativa per portare Didier Drogba nel club catalano. Il giocatore ivoriano aveva firmato un contratto di 12 milioni di sterline a stagione con lo Shanghai, ma sembra che l'Explusa abbia rescisso il contratto per la squadra spagnola. Drogba dopo aver ultimato la trattativa con il club cinese sarebbe stato visto in terra catalana, ma a chiudere gli indugici ha pensato lo stesso presidente del Barcellona. Ascoltiamolo. Drogba io non ne so nulla, se è qui credo sia per vacanza, a parte questo non so veramente niente al riguardo. Se lui è qui, sempre che lo sia, è per motivi personali che non hanno nulla a che vedere con il Barcellona. Drogba ha terminato la sua carriera con il Chelsea dopo un sudalizio durato otto anni e culminato con il rigore che ha dato alla club inglese il titolo di campione d'Europa, dando così anche a Roberto Di Matteo, partito da manager ad interim, la possibilità di essere confermato per altri due anni.